Sono tu per risollevare la sorte di questo paese, hai convocato tutti i leader e allora prendi una decisione, quest'uomo Berlusconi ha ridotto il paese dove l'ha ridotto, pensa solo ai suoi problemi personali e non è capace di presentare una manovra non sulle spalle dei cittadini, bisogna che tu caro napolitano che hai tutta la nostra fiducia prendi in mano la situazione e non con un governico tecnico che non avrebbe i numeri, facciamo come in Spagna, Zapatero ha rinunciato e ha fatto in modo che ci possano elezioni anticipate, le elezioni anticipate possono essere una risoluzione di questo problema, sono le risoluzioni di questo problema, elezioni, 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 elezioni!